Secondo me la Juve ha avuto due macro occasioni ieri sera Quella di McKennie dove Vlaovic sbaglia lo stop e il tiro di Gatti Per me è una grossa occasione anche il pallone finale di Miretti Un momento lì gioca col pannolone e mette una pallonbella a 50 metri che mi c'è remessa laterale Io non me la sento di dire che la Juve ha fatto una buona partita con delle buone occasioni e che potevamo pareggiarla Per me era molto più probabile che facesse un altro gol lì La stessa cosa io posso dire anche per quanto riguarda Cambiasso e Ildiz per esempio Cioè i giocatori che a una partita di livello si sono trovati a giocare in una situazione in cui erano qualcosa che li ha lasciati disorientati Ecco sulla prima volta io sono d'accordo perché nella vita quando fai le cose inedite nuove poi le senti Però il discorso sui giovani a me è una roba che mi manda al manicomio, è più forte di me Ieri a Tutti in the Box ce le siamo un po' suonate, devo dirvi la verità Perché spesso e volentieri non eravamo d'accordo con quello che si diceva Io sono dell'idea che Inter-Juve sia stata una partita totalmente a senso unico Totalmente a senso unico Sono veramente dell'idea che quello di ieri, anzi ormai di due giorni fa, sia stato un 1-0 finto Perché l'Inter ha avuto troppe occasioni di più della Juventus Il palo di Ceranoglu, i due miracoli di Scesni, l'intervento super di Bremer, quella sventagliata di Di Marco che per fortuna non chiude bene La Juventus ha avuto tante piccole potenziali azioni dove sì, certo, i giocatori magari potevano fare delle altre scelte Ma quello che mi rimane della partita non è quello lì, è la differenza abissale che si è vista tra le due squadre Io ieri ho fatto un po' di confusione a Tutti in the Box Devo essere onesto perché io nella mia testa mi ero già preparato quello che volevo dire E purtroppo è venuto fuori un po' prima di quella che è stata la mia ringa Però cerco un attimo di fare mente locale con più calma e parlarne qui insieme a voi Parto da un presupposto La Juventus merita di essere al secondo posto La Juventus merita di essere in quella posizione lì La Juventus non è la squadra più forte, né tecnicamente né tatticamente della Serie A L'Inter è avanti alla Juve in tutto questo Dietro la Juve ci sono tutte le altre ed è giusto che siano dietro Perché il Napoli non sta facendo bene Il Milan è a 4 punti e ha avuto dei momenti di down, la Lazio, la Roma, la Fiorentina, il Bologna, l'Atalanta Tutte le altre è giusto che siano dietro La Juventus merita di essere al secondo posto dietro l'Inter 4 punti, 7 punti, secondo me il divario tra queste squadre è di 7-8 punti Devo dirvi la verità Se la Juventus arriverà alla fine della stagione al secondo posto dietro l'Inter Con un divario di 7-8 punti per me la Juventus avrà fatto assolutamente quella che è la stagione Che doveva fare dato quello che abbiamo visto in campo Indubbiamente Però questo è il mero risultato Allora mero risultato anche che il fatto che la Juventus abbia perso con l'Inter Perché poi con i secondi ma possiamo tirare fuori qualsiasi tipo di discorso Però il campo ci ha detto quella roba lì e ci ha detto che purtroppo le macro occasioni sono state più Inter che Juve Poiché però se Vlaovic la stoppa, però se Miretti la mette bene Allora se ha la Noglu tira due centimetri più in là fa gol E allora se Bremer non la para Arnautovic fa gol Allora se Bremer non fa quell'intervento c'è Turam davanti alla porta vuota Quello che io continuo a dire L'analisi della partita secondo me non può essere Sì però se Chiesa la dribbla meglio, se Vlaovic la stoppa meglio Certo sono tutte cose che entrano nell'analisi Ma ci entrano dopo perché l'Inter è stata padrona del campo dall'inizio alla fine Senza fare chissà quale tipo di partita E il problema è proprio questo Il problema secondo me è anche questo Perché l'Inter ha fatto una partita a quasi risparmio energetico Ha fatto sembrare tutto facile E noi invece siamo sembrati una squadra che va ancora estremamente in difficoltà La Juventus è al secondo posto Al secondo posto in Serie A per secondo me tutto quello che ha mostrato il campo E per quello che è il valore della rosa Perché la Juve non è la rosa più forte della Serie A E secondo me anche Milano e Napoli hanno delle rose quasi a livello della Juve Ma il campo ha detto che è giusto che siano dietro Perché la Juve si è meritata di fare questo tipo di percorso Però noi non facciamo mai magari quel qualcosina in più Perché io non sono d'accordo col fatto che la Juve sia una rosa disastrata Da quinto posto, quarto posto, no La Juve dietro all'Inter Ma la Juve non è una squadra di scappati di casa Non veniamoci a raccontare questo E non possiamo raccontarcelo anche per quello che è stato l'andamento del mercato della Juve Nelle ultime tre stagioni Perché noi siamo qua a dire che l'Inter ha i giocatori forti La Juve e i giocatori tristi Io non sono d'accordo Credo che sia l'Inter che la Juve abbiano giocatori forti Con l'Inter che è una rosa più profonda nelle rotazioni E con alcuni giocatori con un valore tecnico di assoluta classe Più avanti rispetto a noi Perché se andiamo a vedere quella che è la tabella Degli acquisti e delle cessioni della Juve e dell'Inter negli ultimi anni Otteniamo questo risultato L'Inter in tre anni ha speso 183 milioni E ha ceduto per 358 milioni Con un bilancio in attivo di 175 milioni circa La Juventus ne ha speso i 350 Cedendo per 242 Con un bilancio in negativo di 107 Fermiamoci un attimo Respiriamo Non iniziamo a scrivere nei commenti Bisogna parlare di queste cose Perché se io oggi fossi un dirigente della Juventus Mi farei questa domanda Com'è possibile Che noi negli ultimi anni abbiamo speso 350 milioni Cedendo per 242 Quindi andando in negativo di 100 milioni Mentre gli altri invece hanno ceduto E invece hanno acquistato a meno Sono inattivo e hanno anche la squadra più forte Io devo farmela questa domanda Se sono un dirigente della Juve Allora io vi dico che quest'anno La Juventus ha un anno zero davanti Perché per la prima volta Nelle ultime tre stagioni Abbiamo effettivamente un'area sport Costruita ad hoc Giuntoli e Manna Questo è il primo vero anno zero Della Juventus Perché le squadre si costruiscono A partire dai dirigenti Quando è che l'Inter è diventata Quest'Inter Quando l'Inter prende Marotta È inutile girare intorno a questa roba Quando è che la Juventus Ha ricominciato a vincere Nel ciclo degli scudetti Quando la Juventus Ha preso Marotta Quando è che magari La Juventus ricomincerà a vincere Diamo spazio aggiuntoli Dato che abbiamo fatto questa scelta E tra l'altro è il direttore sportivo Campione di taglia in carica Tra le altre cose Quindi la Juventus per me È davanti a un anno zero La Juventus riparte esattamente Da quest'anno qui C'è da considerare però Che negli ultimi anni Siano state fatte delle spese eccessive Delle spese di un certo tipo Perché è ovvio che In questi 350 milioni Possiamo considerare I soldi di Vlaovic I soldi di Chiesa I soldi di Locatelli I soldi di riscatto di Kenner I riscatto di McKennie Ce ne sono stati tanti Di soldi inseriti lì La Juventus è investito Su questi profili qui Non ci sono i soldi invece Dei ragazzi Della Next Gen Perché il valore di Ildis Dentro non c'è Perché Ildis è stato preso Per un discorso di programmazione I soldi di Suley I soldi di Barrenecea Di Cagiorge Che in questo momento Si stanno valorizzando Ed è questa la grande forza della Juve Che in quei soldi lì Che noi vediamo Abbiamo dei soldi virtuali Che è tutta la potenzialità Che la Juventus Si sta creando in questi anni Però noi dobbiamo fare Anche un certo tipo di ragionamento Noi dobbiamo domandarci Qual è il progetto della Juve Perché è vero che quest'anno Inizia con una dirigenza nuova E quindi Cambierà Perché ovviamente Ogni dirigenza ha un progetto diverso Però la Juventus Tre anni fa Due anni e mezzo fa Prende una decisione Cioè di mettere Allegri in panchina Il momento in cui decidi di mettere Allegri in panchina Per quattro anni E con uno stipendio elevato E ragazzi Non si può non parlare di spese Quando si parla di progetti Mi dispiace Non si può non parlare di spese Lo devi fare Perché se il tuo progetto è Arrivo in Champions E mi va bene così Non mi serve competere L'importante è essere autosostenibile E arrivare in Champions Poi se si vince tanto meglio Allora non ci metti Massimiliano Allegri A 7 milioni di euro l'anno in panchina Perché in Champions Ci può arrivare magari anche un altro allenatore Se metti Allegri in panchina Metti Allegri per vincere Quando Allegri arriva due anni e mezzo fa Parla di vittorie Se poi in corso d'opera Ci siamo resi conto Che l'obiettivo era un altro E un altro discorso Ma quando Agnelli decide di mettere Allegri Per quattro anni Con quell'ingaggio lì Non lo fa Per arrivare nelle prime quattro posizioni Cioè questo deve essere chiaro Non dobbiamo prenderci in giro Da questo punto di vista E quando scegli di mettere Massimiliano Allegri in panchina Sai per certo Che ha delle caratteristiche Che lo rendono un allenatore Ottimo Importantissimo Nel gestire delle rose Di livello Allegri è sempre stato bravo A fare quello Quando Allegri ha La miglior rosa a disposizione Per me è difficile Che ti perda il campionato Difficile se non impossibile Che ti perda il campionato Perché? Perché il tipo di approccio Che ha Allegri Su un campionato Di 38 partite Ti impone Di portare a casa Dei risultati Anche se Non vai a dare Il tuo 100% Perché poi Il valore tecnico Dei calciatori Esce fuori Nelle partite Contro squadre Che sono più deboli Di te Quando Allegri Si trova di fronte Delle rose Più forti E le formazioni Più forti È difficile Che Allegri Faccia quel passo In più È molto difficile Negli ultimi anni Negli ultimi anni Napoli vince lo Scudetto Nell'anno scorso Col Napoli Non siamo andati bene Per niente Ricorderete Lo scontroietto Al Maradona Quest'anno Con l'Inter L'abbiamo perso L'anno in cui Vince il Milan Vado a memoria Ma a Torino 1-1 E a San Siro 0-0 Una roba del genere Cioè Nei momenti Clou della stagione Purtroppo Negli ultimi due anni e mezzo Ti è sempre venuto A mancare Quella roba lì Cioè Quando devi andare A affrontare la squadra Che ti può cambiare La stagione Non siamo mai riusciti A fare il nostro meglio Mai Non ci siamo mai riusciti Questo è un bel problema Questo è davvero Un bel problema Nelle finali di Coppa Con l'Inter Coppa Italia Supercoppa Nelle semifinali di Coppa Con l'Inter Nel momento del passaggio Del turno Con il Villareal Nei gironi di Champions Tutti L'anno scorso Nella semifinale Con il Sevilla Quest'anno Nello scontroietto Con l'Inter È sempre mancato Qualcosa È sempre mancato Mi dispiace Parlare di Allegri Ma non puoi Non parlare di Allegri Quando parli della Juventus Come fai A non parlare di Allegri Quando parli della Juventus Lui è l'allenatore della Juventus Allora Il punto qual è Noi ci troviamo In una situazione In cui La Juventus Comunque sta spendendo Ma i risultati Non arrivano Hai scelto Allegri Che è un allenatore Che con delle squadre Perfette Fa assolutamente Il suo E porta la pagnotta a casa Ma allo stesso tempo Hai fondato Un progetto Sulla Juventus Anche legata All'Under 23 E vuoi una squadra Sostenibile Quindi Allegri Con una squadra Sostenibile in mano Fa fatica Per quelle che sono Le sue capacità Le sue caratteristiche Se è il secondo anno e mezzo Di guida tecnica In cui Stiamo facendo Sempre solo Il minimo indispensabile E alla Juventus Mi dispiace Ma la Juventus Fare sempre solo il minimo Non è un'opzione E ci ritroviamo Sempre a dire Eh però Quel calciatore lì Ha fatto quell'errore lì Lì doveva far meglio Lì doveva Ma non sarà che Magari Magari Con quella che è La composizione attuale Della Juventus È necessario Prendere un altro Tipo di strada Perché noi siamo qui Che continuiamo A fare questi discorsi Però non andiamo mai Poi a trovare una soluzione Ok Rimani Allegri Metti che rimani Allegri Ma la Juve Deve comunque Essere una squadra Sostenibile È difficile fare Dei grandi colpi Difficile che oggi Vai a prendere i giocatori Anche se comunque Lo stai facendo Però magari è difficile Fare lo stesso tipo di approccio Che sta facendo l'Inter Con Marotta Che faceva Marotta Anche con noi In cui vai a prendere Magari dei parametri zero Gli devi andare a riconoscere Dei linguaggi molto elevati Perché la Juve oggi Deve essere sostenibile E ha il progetto legato E ha il progetto legato All'Under Perché poi l'anno scorso È stato un cortocircuito Nel ragionamento Se ci pensiamo Perché arrivano Di Maria Pogba Paredes Cioè per quale motivo Questi giocatori arrivano a Torino Sono giocatori che hanno fallito Sono state operazioni di mercato Sbagliatissime Ma perché arrivano Per quale motivo Perché servivano Dei giocatori pronti Che potessero portare Della qualità E che fossero Dei giocatori Come piacciono All'Aligri Con dell'esperienza Di un certo tipo Sono andati male Cioè Quando L'anno scorso Usciamo col Siviglia A me Tocca sentire Che noi usciamo col Siviglia Perché avevano Dei giocatori Che quelle partite Non avevano mai giocate Ma Che per colpa Di quell'annata lì Per via di quell'annata Quell'eliminazione Hanno fatto l'esperienza Che l'anno prossimo Tornerà utile E adesso mi tocca sentire Che La Juventus A San Siro perde Perché ci sono dei giocatori Che non hanno esperienza Cioè per quanti altri anni Dovremmo sentire Sta roba qui Quando Pogba di Maria Paredes Giocatori di esperienza Non mi sembra Che abbiamo fatto bene Non mi pare E allora Qual è il progetto Della Juventus Io questa è la domanda Che devo farvi Perché a un certo punto Poi dobbiamo trovare Il punto di incontro Va bene Rimani allegri Ma la Juve deve essere sostenibile E deve fare un progetto Legato all'Under 23 E quindi deve evitare Dei colpi Come quelli Dall'anno scorso Pogba di Maria Paredes Ma comunque Li deve fare Perché l'esperienza Di giocare Quelle partite Non c'è Allora l'esperienza Come la fai? Con gli anni E allora porti pazienza Allora porti pazienza E basta Però allora Non scegli Allegri Perché Allegri Non è Né per status Né per ingaggio L'allenatore Che ti fa quella roba lì Allegri è uno degli allenatori Più vincenti Della storia della Serie A Uno degli allenatori Più vincenti Della storia della Juventus Se prendi Allegri Semplicemente Per fare il progetto Entro in Champions Allora non ha minimamente senso Non ha minimamente senso Non ha senso Se no rischia Di fare la figura Di Ancelotti Quando ha dato Al Napoli Che non ha fatto Una bella figura Pure torna a Real Madrid C'ha quelle squadre lì E ti fa vedere Che Ancelotti Quelle robe Ancora te le sa fare No? Mi sembra di sì E allora Se noi mettiamo Gli allenatori A caso E non andiamo a prendere Quelle che sono Le loro caratteristiche È un problema È un bel problema È come mettere Non lo so Gasperini Che è uno Che da sempre Ti coltiva il talento E ti fa rendere I giocatori Al meglio Però Non è un vincente Sulla panchina del Real Ha senso Mettere Gasperini Sulla panchina del Real Gasperini È un ottimo allenatore Ma ha senso Per quella che è la tipologia È il progetto del Real Madrid No Secondo me no Poi io ribadisco La Juventus Sta facendo la stagione Che deve fare La Juventus Seconda in classifica È lì Assolutamente Ed è giusto Che sia lì Quella è la dimensione Della Juve Ed è giusto Che la Juve sia lì Perché sta facendo Una stagione Perfetta Secondo me In linea Con quelli che sono Effettivamente Le possibilità Della Juventus Per quello che abbiamo visto La Juventus È la seconda miglior squadra In Italia Però poi la Juventus Deve tornare a vincere Cioè non prendiamoci in giro Da questa cosa qui Non venite a dire Ma abbiamo vinto per nove anni Sì ma la Juventus Deve tornare a vincere Prima o poi Cioè deve farlo Per forza di cose Quindi va bene Rimani Allegri D'accordo Però Allegri Come lo facciamo Tornare a far vincere Dobbiamo dargli la squadra migliore Per forza Allegri Quando la squadra migliore Vince Ma quando non la squadra migliore Cioè negli altri anni Non mi pare che Ci siano stati Cioè negli ultimi anni Ragazzi Perché poi Allegri è quello che ti parla Di categorie Che ci sono gli allenatori Che vincono E quelli che non vincono Però negli ultimi anni Ha vinto Pioli col Milan Che non aveva mai vinto Lo Scudetto Sarri col Napoli Che non aveva mai vinto Sarri col Juve Che non aveva mai vinto Lo Scudetto Spalletti col Napoli Che non aveva mai vinto Lo Scudetto Quest'anno probabilmente Lo vincerà Simoninzaghi Con l'Inter Che non aveva mai vinto Lo Scudetto E non mi pare che Inter a parte Pioli e Spalletti Avessero le squadre migliori Inter e Sarri a parte Perché Sarri con la Juve Aveva la squadra migliore E ovviamente Inzaghi quest'anno Ha la squadra migliore Però C'è anche la possibilità Di vincere con delle squadre inferiori Se si fa quel pochino in più Cioè probabilmente A questa squadra qui Con questi ragazzi Con questo progetto qui Non basta più Il sto dietro E poi su un piazzato O una ripartenza Magari la sblocco E la porta a casa Perché per caratteristiche Questi giocatori qui Non sono quelli che Richiederebbe Allegri In condizioni normali Cioè Non prendiamoci in giro Da questa cosa Non si scappa Quindi quando l'anno prossimo Arriveremo A iniziare una nuova stagione Con Allegri Che è in scadenza del contratto Ma dovremmo farcela Questa domanda A maggior ragione Perché è un anno a zero Con i dirigenti Dovremmo farcela Questa domanda qui La dobbiamo fare Per forza di cose Qual è il progetto della Juve Autosostenibile Arrivare in Champions Perfetto Allora Mister Hai un anno di contratto Ha questa cifra qui Per quello che è il progetto Questi soldi Non te li possiamo dare Che cosa vuoi fare? Te li diamo un anno E poi Basta Te ne diamo meno quest'anno Rinnoviamo Spalmiamo Ma l'ingaggio deve essere più basso O semplicemente Da subito Ti lasciamo a casa Andiamo su un profilo differente Cioè Le opzioni sono queste tre Allegri magari risponderanno Io voglio tornare a vincere Voglio questa squadra qui Sì però ok Però il progetto Non lo decide l'allenatore Lo decide nei dirigenti Io voglio Che la Juventus Torni a vincere Ma io la vedo Impraticabile La strada con che abbiamo vinto In precedenza In cui andavamo Sul mercato Facevamo i balordi Nel senso buono Con i milioni Andavamo a prendere questo Questo e quell'altro Oggi il calcio In Italia è un'altra roba Si è ridimensionato Poi magari un giorno tornerà Però oggi La Juve deve Ritornare A lavorare A valorizzare Quello che è il talento Dei giocatori che abbiamo E probabilmente Qualcosina in più Dal punto di vista Dell'approccio Con cui mandiamo in campo Questi ragazzi Secondo me Il discorso è davvero Estremamente semplice Davvero estremamente semplice Però dobbiamo capire Dove andiamo a parare Perché poi il discorso è Eh sì vabbè La Juve è questa L'Inter è più forte Eh ho capito Va bene Però come ne usciamo Da questa situazione Cioè Ok Sì Però poi Allora Dobbiamo cercare Di fare quel passo in avanti Eh ma la Juve ha già vinto Dobbiamo risolverla Non è che si ferma lì La roba comunque va risolta A me non mi frega niente Allegri non allegri Però passa effettivamente Dalla gestione dell'allenatore Cioè anche qui Non prendiamoci in giro Se allora diciamo Che la gestione dell'allenatore Non c'entra niente Perché qua non possiamo parlare Di soldi Di quello che è il progetto Di quanto ha speso Di quanto si guadagna Non se ne può parlare Parliamo di campo Il campo dice Che è malintere più forte Allora di cosa parliamo? Del fatto che ha vinto Allegri nel primo ciclo? Ah parliamone Io sono d'accordissimo Io sono stato un estimatore massimo Di Max nel primo ciclo Ho fatto cose meravigliose Però adesso bisogna Darsi una svegliata Adesso bisogna veramente Darsi una svegliata Perché non è accettabile Che la Juve arrivi Quarta, terza, seconda E mai prima D'accordo Gli altri sono più forti Ok Però noi spendiamo i soldi E gli altri sono più forti Allora forse stiamo sbagliando Gli acquisti? Forse allora stiamo sbagliando Gli acquisti Allora non spendiamoli più Non spendiamoli più Quei soldi Cioè in qualche modo Comunque va messa a posto Questa situazione Che sia l'allenatore Che sia la squadra Che sia la dirigenza Qualcosa bisogna sistemarlo Perché la Juve Deve vincere Non prendiamoci in giro La Juventus Deve vincere E da questo non si scappa E da questo non si scappa